L'assassino Il colpevole era difeso da un avvocato molto giovane, un debuttante che si era espresso così. I fatti non possono essere negati, signori giurati. Il mio cliente, un uomo onesto, un impiegato modello, dolce e timido, ha ucciso il suo datore di lavoro in un impeto di collera, che sembra incomprensibile. Permettetemi di delineare la psicologia di questo delitto, per dire così, senza termare niente, senza scusare niente. Giudicherete dopo. Gian Nicolas Lugère è figlio di persone rispettabili, che hanno fatto di lui un uomo semplice e rispettoso. Ecco dov'è la sua colpa. Il rispetto. È un sentimento, signori, che non conosciamo più al giorno d'oggi, e di cui sembra sussistere solamente il nome, senza che abbia più alcun potere. Bisogna entrare in certe famiglie modeste e conservatrici, per ritrovare questa tradizione severa, questa religione delle cose o dell'uomo, dei sentimenti e delle ferme opinioni, rivestite quasi di sacralità. Questa fede, che non sopporta né dubbi né sorrisi né sospetti. Non si può essere un uomo onesto, veramente onesto in tutta la forza del termine, se non si è rispettosi. L'uomo che rispetta, tiene gli occhi chiusi. Lui crede. Invece noi, che teniamo gli occhi spalancati sul mondo, noi che viviamo qui, in questo palazzo di giustizia che è la fogna della città, dove vengono raccolte tutte le infamie, noi che siamo i confidenti di tutte le vergogne, i difensori devoti di tutte le aberrazioni, i sostegni, per non dire i complici, di tutti i delinquenti di entrambi i sessi, dai principi ai vagabondi, noi che accogliamo con indulgenza, con compiacenza, con sorridente comprensione, tutti i colpevoli, per difenderli davanti a voi, noi che si amiamo davvero la nostra professione, misuriamo la nostra simpatia di avvocato, in rapporto alla gravità del delitto, noi non possiamo più sapere cos'è il rispetto. Vediamo troppo da vicino, quel fiume di corruzione che va dai capi del governo agli ultimi pezzenti. Sì, sappiamo troppo bene come si suolgono gli affari e che tutto è in vendita, tutto a un prezzo. Posti, funzioni, onori, si scambiano con mucchiettini di oro, con le procedure più dirette oppure con quelle più scaltre, in cambio di titoli, di incarichi nelle grandi imprese industriali o più semplicemente ancora, in cambio di un bacio di una donna. Il nostro dovere e la nostra professione ci costringono a non ignorare niente, a sospettare di tutti, perché tutti siamo sospetti. Restiamo spalorditi quando ci troviamo di fronte a un uomo che, come l'assassino che è davanti a voi, ha un senso del rispetto tanto forte da diventarne un martire. Noi, signori, noi abbiamo dell'onore un'idea simile a quella della pulizia, per disgusto del fango, per un senso di dignità personale, d'orgoglio, ma non ne portiamo in fondo al cuore la fede cieca, innata, istintiva, come quest'uomo. Lasciate che vi racconti la sua vita. È stato educato come si educavano i ragazzi una volta, dividendo in due ogni azione umana, di qui il bene, di là il male. Il bene gli è stato mostrato con un'autorità irresistibile che glielo fece distinguere dal male come il giorno dalla notte. Suo padre non era certo uno di quegli spiriti superiori che, potendo osservare tutto dall'alto, vedono anche da dove nascono alcune fedi e riconoscono le necessità sociali che hanno fatto nascere queste distinzioni. Crebbe dunque pio e fiducioso, entusiasta e limitato. Si sposò a ventidue anni. Gli combinarono le nozze e una cugina che ha avuto un'educazione simile, ingenua come lui, pura come lui. Ebbe la fortuna inestimabile da avere per compagna una donna onesta, quanto c'è di più raro e di più degno di rispetto a questo mondo. Egli aveva per sua madre la venerazione che circonda le madri nelle famiglie patriarcali. Una sorta di culto profondo, come quello da riservare alle divinità. Riportò sulla moglie una parte di questo culto, appena velato dalle familiarità coniugali. E visse ignorando ogni inganno, in una onestà ostinata, in una tranquilla felicità che fece di lui un essere a parte. Poiché non aveva mai ingannato nessuno, non sospettava nemmeno di poter essere ingannato. Qualche tempo prima del matrimonio era entrato come contabile nell'ufficio di quel signor Lenglet che poi avrebbe ucciso. Signori giurati, sappiamo dalle testimonianze della signora Lenglet e suo fratello, il signor Perthius, socio del marito, di tutta la famiglia e di tutti i funzionari di quel banco, che Lucer fu un impiegato modello come probità, deferenza verso i superiori, mitezza di carattere e regolarità. E d'altra parte, era trattato con la considerazione meritata dal suo comportamento esemplare. Era abituato a questi riconoscimenti e alla specie di venerazione verso sua moglie e l'osata al pari di lui da tutti i conoscenti. In qualche giorno, la signora Lugère morì per una febbre tifoidea. Il marito provò certamente un profondo dolore, ma freddo e calmo, tipico del suo cuore metodico. Certo era pallido, aveva lineamenti contratti. Ecco, sino a quel punto era rimasto colpito. A questo punto, signori, successe una cosa molto naturale. Quest'uomo era stato sposato per dieci anni. Da dieci anni aveva l'abitudine di sentire una donna accanto a sé in ogni occasione. Era abituato a quelle cure, a quella voce familiare al momento del rientro, alla buonanotte notturna, al buongiorno del mattino, a quel fruscio di vesti così caro ai cocchi di mamma, a quella carezza a volte amorosa, a volte materna, che rende leggera la vita, a quella presenza amata che fa meno lente le ore. C'era anche abituato ai bocconcini prelibati dei pasti, a tutte quelle piccole attenzioni a cui non facciamo caso e che a poco a poco ci diventano indispensabili. non riusciva più a vivere solo. Allora, per lasciar trascorrere serate divenute interminabili, prese l'abitudine di andare a sedersi per un'ora o due in una birreria dei paraggi. Si faceva una birra e rimaneva immobile, seguendo distrattamente con l'occhio le palle del biliardo che cozzavano tra loro sotto il fumo delle pipe, ascoltando senza prestare attenzione i litici dei giocatori, le discussioni dei vicini sulla politica e le risate che qualche volta provocava uno scherzo sboccato da un capo all'altro del locale. Spesso finiva per addormentarsi per la stanchezza o per la noia, ma in fondo al cuore e in fondo alla carne aveva il bisogno irresistibile del cuore e della carne di una donna. Senza rendersene conto, si avvicinava ogni sera di più alla cassa dove troneggiava una biondina attratto invincibilmente da lei soltanto perché era femmina. Cominciarono a chiattierare e poi prese l'abitudine di passare tutte le serate accanto a lei. Era carina e garbata come necessario per quei posti dove conta assai un bel sorriso. Si divertiva a far intensificare le sue consumazioni quanto più spesso poteva per buona regola di commercio. Ma giorno dopo giorno Lucer si affezionava sempre più a questa donna che non conosceva di cui ignorava il passato e che amava solo perché non ne vedeva altre nei paraggi. La piccoletta che era una furbacchiona si accorse molto presto dei vantaggi che avrebbe potuto trarre da quell'ingenuone e cercò il modo migliore di sfruttarlo. Il più giusto era senza dubbio quello di farsi sposare. Si riuscì senza faticare. Ho forse bisogno di dirvi signori giurati che il comportamento di questa ragazza non era certo irreprensibile e che il matrimonio anziché mettere un freno alle sue interperanze farve al contrario rendere più spudolate. Come è naturale nelle astute nature di certe femmine lei sembrava trarre un gran piacere nell'ingannare quest'uomo onesto con tutti gli altri impiegati dell'ufficio. Dico con tutti abbiamo lettere che lo provano signori era diventato uno scandalo pubblico che solo il marito ignorava come succede sempre. E poi questa donna di facili costumi con un interesse evidente sedusse proprio il figlio del direttore un giovanotto di 19 anni che affascinò deplorevolmente anima e corpo. Il signor Lenglet che sino a quel momento aveva chiuso gli occhi per bontà e per amicizia verso il suo dipendente nel veder suo figlio tra le mani anzi tra le braccia di questa pericolosa creatura provò una collera più che legittima commise l'errore di chiamare immediatamente Lugère e di parlargli scosso dall'indignazione paterna. Non mi resta signori che leggervi il racconto del delitto fatto dal moribondo e trascritto dal giudice istruttore. Ero appena venuto a conoscenza che il giorno prima mio figlio aveva dato diecimila franchi a quella donna. la mia ira sovrastò la mia ragione. Certamente non ho mai avuto dubbi sulla onorabilità di Lugère ma alcuni accecamenti sono più pericolosi di errori. Lo feci dunque chiamare nel mio studio e gli dissi che mi vedevo costretto a privarmi dell'opera sua. Era rimasto in piedi davanti a me spaventato senza capire. Finì col domandarmi chiarimenti con una certa violenza. Rifiutai di dargliene affermando di avere motivazioni esclusivamente private. Allora pensò ad essere sospettato di qualche mancanza e pallidissimo mi scongiurò mi ingiunse di dargli delle spiegazioni. Fermo su questa idea si sentiva dalla parte della ragione e si era preso il diritto di alzare la voce. Poiché io continuavo a tacere mi ingiuriò mi insultò arrivato a un bel punto d'esasperazione che temevo ci potesse arrivare a via di fatto. All'improvviso ferito da una parola offensiva gli gridai in faccia la verità. Per qualche secondo rimase in piedi a guardarmi con occhi stralunati. Poi vedi che afferrava dalla mia scrivania le lunghe forbici che uso per smarginare alcuni registri. Dovedi slanciarsi su di me col braccio in alto e sentii qualcosa entrarmi nella gola sopra il petto senza provare nessun dolore. Ecco signori giurati il semplice resoconto di questo diritto che dire di più in difesa dell'imputato ha rispettato la sua seconda moglie con cieca passione proprio perché aveva rispettato la prima con piena ragione. Dopo un breve consiglio l'imputato fu prosciolto.